Lunedì 8 febbraio si terrà il taglio del nastro e la benedizione dei locali della nuova filiale della BCC di Aquara in via salvo d'acquisto ad Agropoli. Le banche di credito cooperativo sono più vicine alle imprese del territorio e capaci di ascoltare i piccoli clienti, mentre le grandi banche privilegiano le grosse imprese, dichiara il direttore della BCC di Aquara Antonio Marino. Questo è il nostro sedicesimo sportello e contiamo di ripetere le buone prassi che abbiamo fatto nelle altre zone, negli altri sportelli. Da lunedì poi dalle 9 e mezza in poi si possiamo fare di tutto di più come abbiamo sempre fatto. Agropoli è il comune più a sud di quelli che per noi siamo da sopra, da Capaccio a Salerno e poi all'interno fino a San Gregorio Magno. Agropoli perché è una città importante economicamente, tant'è che ci sono sei altre banche. È chiaro che noi vorremmo che crescessero le banche locali a discapito delle banche nazionali perché abbiamo visto già in tanti altri posti che le banche più grandi tendono a privilegiare i clienti più grossi. Noi banche di credito cooperativo siamo più vicini ai clienti più piccoli e questa è la differenza non banale tra noi e le grosse banche. Qui ce ne sono tante di grosse banche e quindi sicuramente c'è anche spazio per le piccole visto che oggi soprattutto al sud il 95% delle partite IVA hanno meno di 5 addette, sono tutte piccole o micro imprese. L'abbiamo visto anche a Capaccio per esempio. Negli ultimi tre anni è andata via Banco Napoli, Montepaschi, UbiBanca, sono andati via tutti i Montepaschi, quindi tutti i colossi e quindi sono rimaste le due banche di credito cooperativo. Questa è la prova che noi siamo più disponibili, più capaci di ascoltare i piccoli clienti.